musica 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 ciao a tutti ragazzi, benvenuti questa nella puntata di Berco di Ninja ok ci siamo, ce l'abbiamo fatta per un intro normale dobbiamo disattivare i due generatori che ci rimangono noi iniziamo subito carichi carichi dobbiamo andare a sinistra guarda che bello dimmi che non c'è alcun laser subito così non ci credo di qua non ci credo mai no non possiamo andare di là devi stare attento sto sensin zitto sono in terapia per questo fallo 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 e ce l'hai fatto forse è pure disattivato questi robi robi roba ecco qua c'è un altro, perfetto lascia fare bene che dobbiamo fare? devi solo spiegarti l'ha polverizzato nooo ma quello lo dobbiamo ancora rifare ora? no dobbiamo disattivare sicuramente qualche cosa no mi pare troppo difficile ora vediamo se non ci sono le grate o qualcosa tipo ma dove stanno andando? no pensavo solo delle specie di manovelle di qua di qua di qua cioè non ci sono nemici ah quello è per i potenziamenti e vai 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 a me non servono noi siamo dei master a parte che forse non possiamo farli beh infatti e come ti vanno a vedere quelli che ha il posto? ma lascia perdere sei 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 quelli sei sono a me non servono i potenziamenti lascia stare boom c'è un nemico mamma mia ci hanno messo la luce del cazzo vai 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 fai disattivalo disattivalo no no disattivare più hai perso non ho perso non ho perso per niente perchè io sono troppo master che bello come godo dove vai? come godo ciao non abbiamo più problemi di niente ok andiamo qui però abbiamo un culo di vita se c'è una vita sul gioco se qualcosa spara siamo cacchio qui dove deve essere assolutamente apri tutte le ci serve manutenzione e scusa vi sopra sei dobbiamo salire sopra e ma ne abbiamo aperti tutti a tre ah sono le cose dal gas vivi eh sveglio come un gatto come un pipistrello si si dai 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 ralenti 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 mi manca far scena mi manca fare gli effetti sonori ragazzi a nessuno mancava quant'è che non possiamo andare no mi sa di no tranquillo all right bitches il ventilatore che che senso ha questa stanza si che ha senso tutto ha un senso qui non senso questa vita anche se questa mmm attento se non ci rubo nel culo allora io non ho idea di come fa qua devi saltare rallentatore devi andare vai ora vai ora vai ora no no ma dove qua 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 apri qua ah ok vai ora vai rallenta ok se il laser non si toglie eh certo che si toglie vai qua devi fare sculo giornaliero ok pure questo è off possiamo uscire qua space space corri 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 come se fosse un ninja vero si si tetto è rimasto solo un solo fiammifero di qua dai a noi non servono i fiammiferi per accendere il fuoco a noi basta lo sfragamento delle dita sai questa roba attento quel pannello diffusibile non sembra che un eh sembra proprio però a casa nostra bello forse è qua la devi disattivare vedi come ci sono andata a video vieni là ma se ci siamo sopra non crepiamo eh vabbè rallenti 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 mi consenta rallenti per favore ora cade tutto e si esplode tutto male cadi cadi è cadata scappa 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 mi ha piccato il fuoco scappa che merda ha funzionato però andiamo ce n'è mio dio che bello scappa scappa 14,13 ce l'abbiamo fatta è così difficile ce l'abbiamo fatta oh oh my goodness non è cazzito tranquillo puoi vedere fine si questo gioco è bello perchè non ti segnala il copyright non ti fa si è vero ti viene il cuore vediamo un cervello solamente oggi e pazienza ragazzi è andata così per oggi va bene va bene ragazzi questo era l'episodio del numero non mi ricordo mai numero è l'ennesima potenza di marco del ninja uh e se il video vi è piaciuto ricordo sempre di mettere un bel pollice in su se volete supportarci perchè ricordate che un pollice in su per voi non cambia niente ma per voi vale tanto cioè per noi vale tanto rifacciamo lo spot per voi non vale niente ma per noi vale tanto è un grosso traguardo che vuol dire non lo so e condividetelo ok poi c'è lo stesso spot del mi piace si allaccia al condivisione e all'iscriversi delle pagine facebook su e chi più ne è più ne è netta ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao